Si è dovuto penare un po' quest'anno, ma finalmente questa giornata di Ferragosto si è potuta onorarla come da tradizione, al mare. Pienone in riva all'Oioni, il più gettonato, ma fa buoni numeri anche l'Adriatico. Questa è San Cataldo a contare per la gioia degli operatori, presenze anche da fuori regione, grazie all'efficace rete con le strutture ricettive della città. Da dove venite? Da Bergamo. Qua è tutto stupendo, siamo da anni che la mia famiglia viene, quindi ci piace sempre tornare ogni anno. Unica nota dolente i parcheggi che scarseggiano 200 posti in meno qui nella marina più vicina alla città, ma tant'è. Il 15 agosto il rito profano collettivo da celebrare a tutti i costi, compresa la conquista del posto al sole in riva al mare, a passarci la giornata in acqua o a rilassarsi sui lettini. E poi la partita a burraco con tornei balneari organizzati nei minimi dettagli dagli stessi bagnanti. Pronto, questo ci sono gli elastici per il vento, le carte sono qui, vedete, abbiamo il segnapunti, abbiamo penna, carte, abbiamo tutto. Rito che per tanti, non molti per la verità, comprende anche il pranzo in spiaggia preparato rigorosamente in casa. Melanzane fritte, petti di pollo fritti, tutte cose che si usano nostre. E si resta qui fino a che ora? Stasera, tanto non ci stanchiamo. Per arrivare al tramonto e chiudere il Ferragosto in bellezza, in fondo, con poco. L'America è qui, l'America è qui.